Creo Kitchen, Longiano, Via Emilia 2051. La famiglia Gardini inaugura un posto espositivo unico, un luogo dove le cucine possono esprimersi in tutte le loro qualità e caratteristiche. Forte del gruppo Lube, un'esposizione che dà modo al cooking show di Cristiano Lunardini di inaugurare la cucina per eccellenza. La cucina di casa, la cucina d'eccellenza perché è la prima cucina dove si muovono i primi passi, dove tutti sicuramente hanno cominciato a cucinare e poi da di lì si passa alle scuole, alla formazione, al lavoro, alle cucine professionali. Però è una cucina di casa che al giorno d'oggi, proprio per chi è appassionato di cucina, è ancora più preparato a volte dai professionisti e quindi ricerca sempre più materiali, attrezzature che raggiungono quelle professionali. Quali le proposte di questo show? Abbiamo preparato, chiamiamoli stuzzichi o finger food, sfizi, chiamiamoli tutto ciò che si può mangiare con le mani per evitare un servizio, quindi delle cosine dolci e salate per un aperitivo o anche per un pranzo, quindi da un fagottino di pasta sfoglia con le pere e formaggio, a una crema al parmigiano con il balsamico e il crostone di pane, a una piadina farcita con un hummus di ceci e un pomodorino essiccato. Tanto gusto avvolto dall'alta tecnologia delle cucine Creo. Cucine che non avevo mai utilizzato ma ho avuto modo, ho visto che sono facilmente, cioè tutto di facile uso e soprattutto di pulizia e di buona resistenza. Cosa incanta sempre un appassionato di cucina? Ma sicuramente l'ambiente di lavoro che oltre ad essere professionale, e io guardo sempre che sia di facile pulizia, resistente, ma deve essere anche bello, perché ormai vogliamo anche il bello. È fondamentale anche ottimizzare la nostra spesa, quindi le attrezzature come frigor, frigorifero, freezer devono essere comunque predisposte alla nostra spesa e anche l'utilizzo di forni, fornelli, piastre a induzione piuttosto che fornelli a gas possono fare la differenza per la nostra cucina. Fanno sicuramente la differenza perché al giorno d'oggi si va verso sia i materiali e sia poi le energie che poi utilizziamo per i vari elettrodomestici che sia tutto ecocompattibile, che sia il più possibile a spreco zero. Quindi una cucina con i prodotti alimentari che non dobbiamo sprecare, ma nello stesso tempo non dobbiamo sprecare neanche energia. Ad esempio della piastra induzione che funziona, l'elettricità, però funziona molto velocemente, quindi i tempi vengono molto molto racchiusi, quindi sono molto più bassi. E poi anche un fatto di sicurezza, se io metto il mio litro di latte a bollire nel giro di un minuto bolle, ma se dovesse fuoriuscire si spegne automaticamente e non ho neanche la fuoriuscita di gas, quindi anche una doppia sicurezza. Design, praticità, efficienza, quindi possiamo cucinare direttamente sul piano, l'abbiamo visto preparare un finger food direttamente sul top della cucina. Un materiale particolare dove si può direttamente impastare, anche tagliare, anche se faccio sempre molta attenzione, anche per il coltello a volte, per il piano. E quindi una facilità in tutto questo, anche perché gli spazi all'interno della casa sono sempre molto misurati. A casa possono cucinare tutti, quindi grazie alla grande sicurezza? Sì, oltre alla grande sicurezza, con un po' di buona volontà, diciamo così, noi, anch'io come altri colleghi, ormai insegniamo tramite i media, tramite la tv, tramite le dimostrazioni, tramite le scuole, cucina sempre ovunque, quindi ce n'è per tutti i gusti. Creo Kitchen, gruppo Lube Famiglia Gardini, insieme per un posto unico. Eh sì, ci siamo impegnati, abbiamo cercato di fare un negozio bellissimo, il più bello d'Italia, amo dirlo, con dei prodotti di marca, made in Italy, ma convenienti, quindi alla portata di tutti. Cucine belle, di marca, pratiche, ergonomiche, per chi veramente vuole abitare la casa o utilizzare la cucina, ma economiche, quindi alla portata di tutte le tasche. Vi lega al gruppo Lube un percorso di creazione e innovazioni che dura oltre 50 anni. È vero, mio padre, se la qualità della Lube 50 anni fa, all'epoca l'azienda Gardini era piccola, ma anche l'azienda Lube non era grande, siamo cresciuti insieme e la Lube è diventata un'importante realtà industriale sul panorama nazionale, internazionale, con oltre 400 modelli, prodotti, varianti, vi dicendo. E noi abbiamo sempre seguito queste sue strategie, queste sue proposte, abbiamo cercato sempre di esporle meglio in tutti i nostri negozi, soprattutto nel negozio storico di Gatteo e nei vari negozi che abbiamo, Cesena, Rimini e Ravenna. E poi con questo marchio, Creo Kitchen, che vorrebbe essere un prodotto Lube un attimino light, abbiamo voluto fare una bella esposizione qui sulla Via Emilia. Un'esposizione completa con tutti i modelli, sono più di 20 modelli montati di questo marchio. Creare la propria cucina grazie ad un'alta professionalità che la famiglia Gardini da sempre mette a disposizione, progettisti e progettiste che seguono il cliente in tutto. Verissimo Claudio, oltre ad avere dei ottimi prodotti, prodotti che diano delle garanzie di continuità, prodotti veramente validi e di marca, investiamo moltissimo sulla professionalità dei nostri collaboratori, li mandiamo a fare i corsi, gli diamo tutti i mezzi per pensare, studiare, proporre le ultime novità. I nostri ragazzi, che sono dei falegnami veri e propri, perché li facciamo in modo che siano veramente addestrati, allenati, istruiti, formati per adoperare i prodotti che poi vanno nella casa dei clienti, li mandiamo dalle case produttrici, i nostri falegnami vanno in Lube, perché oggigiorno poi prendere in mano un prodotto vuol dire trattarlo bene. Non è solo legno, perché a volte ci sono cerniere scomparse, piani cottura particolari, devono essere installati, montati bene a casa del cliente. Noi ci teniamo moltissimo alla formazione di questi nostri colleghi e collaboratori e quindi investiamo molto anche in quel settore lì. Una cucina altamente innovativa, una cucina che presenta le ultime tecniche innovative per quanto riguarda igiene, sicurezza, efficienza di tutte le parti e quindi una rete distributiva che permette di offrire la massima qualità ad un prezzo conveniente. È vero, comunque sia sono tante parole, quando diciamo tutto, efficienza, igiene, praticità, ergonomia, sono tante parole a volte anche difficili da spiegare. Noi invitiamo i nostri potenziali clienti a toccarli con mano. Abbiamo fatto una vera e propria esposizione, grande, con delle cucine attive, cioè proprio che si può anche utilizzarle, a toccarle con mano. Quindi quando vengono dai nostri arredatori, quando vengono dai nostri arredatori e gli viene raccontato qualcosa, li invitiamo a toccarle perché è tutto a disposizione loro. Quindi i vari tipi di lavelli, i vari tipi di cassetti, cestoni, guarnizioni, chiusure ammortizzate. Si possono vedere, cioè come sono? Sono così, si possono toccare. E quindi si riesce ad acquistare una cucina ad un prezzo conveniente, quindi una cucina acquistabile, grazie a questo grande supporto in rete a livello nazionale e soprattutto locale. Ci puntiamo molto su questo discorso perché comprare qualcosa di marca, Madden Italy, ma a livello di prezzo conveniente, secondo noi è una chiave vincente. Quindi puntiamo molto su questo discorso della convenienza, pur fermo restante, la qualità, la professionalità, il Madden Italy, prodotti garantiti e quant'altro. Quindi Creo Kitchen a Longiano, via Emilia 2051, Longiano terra di cultura, terra di bellezza, terra di design da oggi. È vero, io amo dire via Emilia del comune di Longiano, rimarcando la via Emilia, cioè a volte uno pensa a Longiano e pensa al teatro Petrella, pensa alla Rocca, noi siamo qui sulla via Emilia, sull'antica strada fondata dal Consul Emilia che collega Rimini da Milano, quindi siamo sulla fronte via Emilia, su una grande strada di alta visibilità e invitiamo tutti almeno a dare un'occhiata, a venire a vedere.